I caminetti a bioetanolo questa sera in Polposition, un prodotto cari amici che sta prendendo sempre più campo anche in Italia per tutta una serie di vantaggi che comporta. Ne parliamo e ci facciamo spiegare meglio questo argomento da Bio Camino, un'azienda di Uboldo in provincia di Varese ed è con noi Ferdinando Conte. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Amministratore delegato appunto di Bio Camino. Come è nata questa idea? Allora, noi siamo produttori di caminetti a bioetanolo. L'attività è iniziata più di 40 anni fa come lavorazione di metalli, produttori di articoli metallo su disegno per l'industria. E questo è stato un po' la vostra cosa. Poi vi siete evoluti e adesso vi state specializzando, no? Questo ci ha permesso nel tempo di acquisire una grossa conoscenza dei materiali, specialmente dal punto di vista della saldatura e delle dilatazioni termiche dei metalli. Certo, quello che è poi l'aspetto importante nel Bio Camino. Questo è stato importante nella costruzione del Bio Camino. Noi abbiamo iniziato qualche anno fa, abbiamo visto in commercio dei caminetti a bioetanolo. I caminetti a bioetanolo erano sostanzialmente tutti prodotti di provenienza estera. tedesca soprattutto, tedesca, Danimarca, Francia. Però quando li abbiamo visti siamo rimasti nettamente impressionati dalla scarsa sicurezza di questi prodotti. Proprio perché appunto fatti con materiali magari un po' da poco. Proprio il sistema di produzione, il sistema di utilizzo di questi caminetti aveva una sicurezza che lasciava molto desiderare. I vostri sono sicurissimi. Sì, noi abbiamo sfruttato il nostro know-how nella tecnologia dei metalli. Abbiamo sfruttato l'ufficio di progettazione, l'ufficio tecnico, la nostra produzione che è dotata di tecnologie avanzate. Abbiamo costruito un caminetto partendo dal punto di vista della sicurezza soprattutto. Il vostro marchio, scusate se l'ho interrotta, è famoso per la cappa rossa. La cappa rossa, Bio Camino con la cappa rossa. Quello un po' che vi caratterizza. Per chi non lo sapesse, cos'è il bioetanolo, cos'è un caminetto a bioetanolo? Il bioetanolo è un alcol, un alcol prodotto dalla fermentazione di vegetali. Quindi naturale. Assolutamente naturale, ecologico, rinnovabile. Prodotto dai vegetali che possono essere mais, barbabietola, cereali ed altro. Questo è il bioetanolo. Il caminetto a bioetanolo è l'apparecchio che serve per bruciare il bioetanolo in sicurezza. Qual è il vantaggio? Non occorre canna fumaria. Bruciando un alcol puro non emette fumi tossici e quindi non occorre canna fumaria. A questo punto il caminetto classico si è liberato e può essere posizionato in qualsiasi punto dell'abitazione, del locale. Anche al centro. Anche la manutenzione, la pulizia, la famosa pulizia. Non hanno bisogno di manutenzione, di pulizia, sono prodotti assolutamente semplici nel loro utilizzo. Generano un buon calore con una fiamma che è praticamente uguale a quella della legna. Avete molto cura del cliente, tant'è che date informazioni anche se non acquista. Al primo posto nelle nostre priorità c'è la sicurezza. Perché noi sappiamo che il cliente, poi alla fine il cliente deve accendere un fuoco nella propria abitazione. E deve farlo in completa sicurezza per sé e per la propria famiglia. Questo è il primo posto. Al secondo, la qualità. Ma la qualità è intesa non come, non solo la qualità del prodotto, che è comunque il massimo che si può trovare nel mercato, ma tutta l'attività dell'azienda deve essere permeata dalla filosofia della qualità. Dal contatto iniziale col cliente, alla vendita e alla post vendita. Alla post vendita. Alla cura poi, giustamente, del cliente in tutto. Avete fatto anche una serie da incasso per gli architetti, perché si sa che gli architetti sono un po' esigenti. Sì, questo fa parte dei nostri punti di forza, cioè lo sviluppo continuo di nuovi prodotti e delle serie di caminetti da incasso. Questo comprende anche la customizzazione dei nostri prodotti. Noi lavoriamo molto con gli architetti. L'architetto non si fida di un prodotto di bassa qualità, perché il caminetto potrebbe fargli fare brutta figura con il cliente. Quindi i nostri prodotti sono fatti per durare nel tempo. Le cose fatte bene durano nel tempo. E i vostri sono molto durevoli, diciamolo pure. Oltre che, ribadiamolo ancora una volta, perché secondo me la cosa più importante è la sicurezza. La sicurezza è sempre al primo posto. Di mettere in casa un prodotto ultra sicuro, anche se ci sono bambini, animali domestici, non c'è nessun pericolo. Grazie, allora, Ferdinando Conte per essere stato con noi. Bio Camino. Bio Camino. Con la K rossa. Maggiori informazioni si possono ottenere dal nostro sito, www.biocamino.com. Tantassimo. Bio Camino con la K. E l'abbiamo anche visto, con la K rossa, da non confondere, come si suol dire, con le imitazioni. Imitazioni natante, ma è inimitabile anche l'azienda che sta per arrivare in pole position.